Domani alle 18 nel posticipo della 22esima giornata in diretta su Antenna del Mediterraneo, la Benfap Capo d'Orlando sarà di scena al Palazzo dello Sport di Roma contro la capolista Virtus. Gara complicatissima per i paladini che affrontano la favorita del Girone Ovest, formazione allenata da Piero Bucchi e Reduce da 5 vittorie di fila. Sono profondi, sono tanti, talentuosi, hanno struttura, sono allenati da uno dei decani degli allenatori italiani a Piero Bucchi, vi ricordo che ha 600 panchine in serie A1, qualcosa di questo tipo qua, più di 600 panchine. Quintetto con Murkessa, Santiangeli, Landi e Sims, rotazione dei lunghi normalmente a 3 con Alibegovic dalla panchina che qua giù gioca una gran partita. Baldasso e Saccaggi sono quelli che ruotano sulle guardie e Sandri che in questo momento è fuori per infortunio e sarà al limite, non sappiamo se giocherà contro di noi oppure no, è un po' il jolly, gioca il 3, gioca il 4. È una squadra che ha alte percentuali e ha una distribuzione del gioco importante, nel senso che tutti hanno responsabilità, anche se nella struttura di gioco di Bucchi la palla va dentro da Sims tantissime volte. Tantissime volte ovviamente un giocatore che ha fatto l'NBA Ivera è chiaro che una delle chiavi della partita sarà riuscire ad arginarlo non soltanto dal punto di vista della produttività offensiva ma anche dal punto di vista della sua capacità di accendere i compagni perché essendo lui così pericoloso a fronte di un'aggressività nei suoi confronti lui è bravo a far uscire la palla fuori. Cosa vogliamo fare? Vogliamo andare senza criterio, vogliamo andare aggredendo la partita, uno potrebbe pensare che non abbiamo niente da perdere, invece la realtà è che non è così. Io penso che noi siamo pronti per essere competitivi contro la squadra più forte del campionato. La partita di Capodorlando è una di quelle che mi ha lasciato più l'amaro in bocca, non per la sconfitta maturata nell'ultimo minuto ma per essere forse l'ultima di quella serie di partite in cui noi avevamo un approccio difensivo che era permissivo nei confronti degli avversari. Questa cosa qua non voglio che succeda martedì assolutamente, vogliamo andare ad aggredirli, vogliamo riuscire ad avere la personalità di farlo. La crescita nelle ultime partite di Matteo Laganà, la consistenza di Jacopo Lucarelli che ha un piccolo infortunio e vedremo se sarà in grado di giocare oppure no ma spero proprio di sì. La crescita anche dal punto di vista del collettivo mi fa pensare che siamo pronti per giocare una partita di sostanza assolutamente vera. Grazie a tutti.